Le 7 in punto di giovedì 29 agosto, buongiorno, dunque tra due ore esatte alle 9.30 Giuseppe Conte salirà al Quirinale per ricevere dal Presidente Mattarella l'incarico di formare un nuovo governo L'annuncio è arrivato ieri sera alle 8.30 al termine di una lunghissima giornata di consultazioni giornata nella quale appunto è emersa la convergenza da parte del Partito Democratico e da parte del Movimento 5 Stelle proprio sul nome di Conte, Zingaretti e Di Maio quindi hanno trovato apparentemente la quadra adesso la palla passa chiaramente a Conte il quale riceverà l'incarico e poi dovrà tentare di formare un governo quindi insomma giornata ieri molto importante andiamo a vedere assieme allora sui giornali in edicola questa mattina quali sono stati i punti salienti di questa giornata che ha portato poi alla convocazione di Giuseppe Conte questa mattina al Quirinale Iniziamo con la prima pagina del Corriere della Sera Il governo nelle mani di Conte, titola Il Corriere, Movimento 5 Stelle e PD dicono sì oggi in incarico, lite sui vice premier e sulla piattaforma Russo Grillo più ministri tecnici Grillo infatti ieri sera appunto ha fatto sapere che lui appunto ha dato diciamo ha tentato di dare un po' la linea ai 5 Stelle dicendo appunto che lui è per dei ministri tecnici e non politici anche se poi più tardi ha aggiustato un po' il tiro il nuovo governo è nelle mani di Giuseppe Conte questa mattina alle 9.30 il presidente della Repubblica lo ha convocato al Quirinale per conferirli l'incarico di formare l'esecutivo con il PD il premier ex giallo-verde accetterà con riserva come sempre accade ma è ancora lite sui vice premier e sul ruolo di Luigi Di Maio mentre Beppe Grillo attacca i ministri devono essere tecnici non politici Calenda lascia il partito democratico Salvini litiga con Di Maio che dice di avere ricevuto da lui l'offerta rifiutata di fare il premier la Lega smentisce questa rivelazione fatta ieri da Di Maio politica e non solo vediamo in alto sul Corriere della Sera al Via la mostra di Venezia la presidente della giuria attacca Polanski e poi a centropagina dall'estero un altro colpo di scena targato Boris Johnson il nuovo premier britannico chiude il Parlamento la protesta dei 900.000 aula sospesa fino al 14 ottobre per evitare il dibattito sulla UE sì della regina appunto Boris Johnson si è avvalso di questa facoltà proprio di prolungare le vacanze estive proprio nel tentativo di evitare appunto di poter arrivare ad un dibattito che poi lo possa mettere in difficoltà quando Carlo Primo Stewart arrivò con un drappello di militari Boris la democrazia sospesa l'arma per trattare con Bruxelles e poi a fondo pagina il caffè di Gramellini dedicato a Greta e l'effetto papete Greta lo sapete la giovane Greta Thunberg la giovane svedese ambientalista che è arrivata è salpata a New York appunto per portare avanti la sua battaglia ambientalista e cosa dice Gramellini a Greta dice stai attenta perché rischi una sovraesposizione appunto l'effetto papete riferimento a Salvini e poi la Repubblica coraggio Conte sarà dura Di Maio non rinnego il lavoro fatto in questi 14 mesi con la Lega vogliamo completare quello che abbiamo iniziato nel marzo 2018 Zingaretti proviamoci svolta e discontinuità le parole chiave basta con l'odio e la paura non è una staffetta ma una nuova sfida nasce l'alleanza PD Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte sarà il premier di un'intesa giallorossa allargata all'EU e agli autonomisti oggi alle 9.30 salirà al Quirinale per ricevere l'incarico di formare il nuovo governo avrà il tempo che chiede verosimilmente fino a lunedì per sciogliere la riserva poi a metà della settimana prossima il giuramento resta l'ostacolo l'abbiamo visto del vice premier anche se Conte pensa di non farne nessuno la situazione si è sbloccata dopo che Mattarella negli incontri con le delegazioni 5 Stelle e PD ha avuto grazie garanzie sul governo di legislatura e sul ruolo politico del premier appunto Grillo l'abbiamo visto chiede ministri non politici Francesco Merlo un quasi leader castiga Bulli Di Maio entra e Salvini esce ma il traffico nel cortile del Quirinale è regolato dal cerimoniale dunque solo occhi per la giunta per giunta da molto lontano c'era tra noi un gioco d'azzardo ma niente oramai nel lungo sguardo appunto la citazione della canzone di Conte però appunto scrive Francesco Merlo Paolo non Giuseppe chiaramente e poi protesta a Londra per quello che la Repubblica definisce un golpe all'inglese firmato Johnson il quale chiude il Parlamento per blindare la Brexit un conflitto istituzionale senza precedenti che sta scatenando un vero e proprio terremoto politico in Gran Bretagna e poi sempre in prima pagina sulla Repubblica i 70 anni di Richard Gheer Natalia Aspesi appunto 70 anni di Gheer due film cult e tanto impegno appunto Richard Gheer che è tornato alla ribalta in questi giorni per il suo impegno a favore dei migranti nel Mediterraneo bene questo e molto altro ancora nella nostra rassegna stampa tra pochissimo subito dopo la pubblicità le 7 e 11 minuti e 50 secondi in questo momento ben ritrovati dunque appunto la crisi di governo lo abbiamo visto ampissimo spazio questa mattina chiaramente su tutti i giornali allora andiamo a vedere la stampa di Torino che titola i paletti di Mattarella per il Conte Bis il presidente vuole i ministri a inizio settimana con un programma preciso il premier sciolga i nodi squadra e vice premier Zingaretti un esecutivo di responsabilità Di Maio destra e sinistra superate Salvini meglio il voto Meloni noi in piazza quindi appunto le opposizioni molto dure oggi l'incarico calenda via dal PD Toto Nomine Grillo chiede tecnici nei di Casteri il monito di Cacciari è un favore ai sovranisti la stampa infatti fa un'intervista a Massimo Cacciari molto dura e poi a centropagina la fotonotizia con in primo piano quello che sta accadendo in queste ore a Londra dove Boris Johnson ha di fatto sospeso il Parlamento Brexit ad ogni cosa appunto Johnson sospende il Parlamento scrive la stampa l'ultima volta che un leader britannico sospese il Parlamento non finì bene nel 1629 re Carlo I convinto che Dio avesse conferito ai monarchi ingresi poteri assoluti decise di chiudere l'assemblea dando inizio a due decenni di guerre nel 1649 sconfitto da Oliver Cromwell Carlo fu decapitato vicino al palazzo di Westminster ora ci spostiamo su il messaggero di Roma il bis di Conte duello sui tecnici è il titolo del quotidiano romano oggi Mattarella dà l'incarico al premier uscente dopo il via libera di Zingaretti e Di Maio il capo Movimento 5 Stelle Salvini mi aveva offerto Palazzo Chigi lo ha rivelato ieri Di Maio Grillo in certi ministeri non voglio politici anche se poi in serata c'è stato un piccolo cambiamento diciamo di questa un piccolo chiarimento di questa dichiarazione di Grillo il quale ha fatto sapere a Di Maio che in realtà appunto il capo del Movimento 5 Stelle lui e qui deve essere lui a decidere vediamo poi in alto due notizie verso il derby Roma-Lazzo l'allarme di Francesco Totti così non si va in Champions e poi l'apertura della mostra del cinema a Venezia con l'attacco durissimo a Polanski appunto via con polemiche scrive il messaggero a centropagina stop fino al 14 ottobre per facilitare il no deal con la UE ok della regina protesta a Londra Johnson chiude il Parlamento per la Brexit ci spostiamo sul tempo quotidiano romano Salvini guarda che hai combinato questa mattina in carico a Giuseppe Conte per riportare il PD nella stanza dei Bottoni incomprensibile la crisi peggio la retromarcia con l'offerta a Di Maio di Palazzo Chigi e poi solo Calenda ha detto no all'inciucio Calenda appunto per protesta ha lasciato il PD ora vediamo il titolo di apertura del fatto quotidiano Abemus la fumata dopo tanto fumo nero esce il bianco oggi Mattarella in carica Conte per il governo Di Maio rivela Salvini mi ha offerto di fare il premier ho detto di nuovo no sondaggi governo su mentre la Lega appunto scrive il fatto va giù e poi vediamo in alto idea grillo ministeri tecnici ai non politici e poi la notizia che viene dalla Gran Bretagna golpe bianco di Ben camera imbavagliata e andiamo adesso a vedere invece come titola libero ennesima conferma a comandare è il sud del titolo di libero ribaltone contro il nord i meridionali si sono impadroniti del paese con una secessione di fatto occupano il governo giallorosso e tutte le principali posizioni di potere Mattarella via l'esecutivo Movimento 5 Stelle e PD si salvi chi può scrive chiaramente polemicamente libero la corte di Conte è invece il titolo di prima pagina del manifesto 5 Stelle e PD incoronano il presidente del consiglio Giuseppe Conte oggi al Quirinale per l'incarico Salvini sconfitto parla di complotto si apre ora la partita più difficile su squadra e programma con l'incognita Rousseau e gli Altolà paradossali di Grillo il riferimento è appunto ai ministri non politici chiesti da Grillo e poi a centro pagina Salvini blocca i porti contro la mare Ionio nel Mediterraneo salva intanto 98 migranti 22 i bambini sotto i 10 anni all'alba di ieri la nave mare Ionio della piattaforma italiana mediterranea ha individuato un gommone alla deriva largo di misurata con 98 persone a bordo 26 donne 22 bambini sotto i 10 anni 2 sono neonati li abbiamo trovati con il ciuccio e almeno altri 6 minori non accompagnati Matteo Salvini con i piedi fuori dal ministero dell'interno non ha perso tempo firmando il divieto di ingresso alla mare Ionio scrive appunto il manifesto e poi il giornale di Milano la truffa è servita democratici 5 stelle ufficializzano l'inciuccio Conte fa il bis ma la sinistra litica già calenda se ne va Grillo fa fuori di maio i ministri non siano politici e poi l'abbiamo visto la foto in primissimo piano del premier conservatore inglese Johnson Londra shock sulla Brexit chiude il Parlamento andiamo a vedere adesso la prima pagina del sole 24 ore perché è molto interessante vedere come i mercati hanno reagito alla notizia di un conte bis governo accordo per conte premier BTP ai minimi storici quindi i mercati evidentemente hanno reagito bene sui mercati finanziari giornata memorabile scrive il sole per il calo dello spread tra BTP e Bund tedeschi a quota 176 punti base la corsa all'acquisto dei titoli di stati italiani sostenuta dalla schiarita della crisi di governo ha fatto crollare il rendimento dei BTP decennale al minimo storico per la prima volta appunto quindi questo evidenzia il sole 24 ore ma andiamo a vedere adesso assieme le pagine interne di alcuni quotidiani per alcuni retroscene importanti per capire quello che è accaduto ieri e quello che accadrà appunto nelle prossime ore qui siamo a pagina 2 del Corriere della Sera il via libera di Movimento 5 Stelle EPD Conte sale al Quirinale oggi sarà affidato l'incarico Di Maio rivela che la Lega gli aveva offerto il ruolo di capo dell'esecutivo Zingaretti avverte non c'è alcuna staffetta Salvini mio errore è stato non considerare il gesto dei Renziani e poi il fotoracconto delle audizioni di ieri vediamo l'ultima è stata quella di Di Maio poi Salvini Berlusconi e Zingaretti per citare soltanto le più importanti si erano visti l'ultima volta la sera del 20 agosto scorso in cui Giuseppe Conte salì al colle per presentare al capo del Stato le sue dimissioni da Premier del Governo Giallo Verde nove giorni dopo questa mattina alle 9.30 il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella attende di nuovo al Quirinale il Premier Divisionario per conferirgli appunto l'incarico il retroscena la scelta del colle Mattarella fiducioso che il nuovo governo non nasca al buio e poi sempre sul Corriere il Premier torna in campo e cosa ha detto Conte non sarà una somma ma una vera coalizione l'obiettivo di essere il nuovo Prodi che possa sfidare Salvini scrive il Corriere della Sera e poi di nuovo un Toto Ministri come accade sempre in giornate come queste appunto dal Premier Conte sottosegretario Spadafora Vice Premier Franceschini e poi Mario Morcone alla difesa appunto lo stesso Di Maio la giustizia ha confermato forse buona fede insomma volti noti e meno noti della politica italiana e poi il focus sul PD la sfida di Zingaretti sui nomi ipotesi di una alleanza alle regionali si pensa quindi anche ovviamente alle prossime alleanze sul voto vediamo qui la delegazione dei Dem all'uscita ieri dal Quirinale i Dem puntano al commissario UE e a economia interno e difesa da Richetti l'unico no in direzione e poi appunto il terremoto in qualche modo che si è consumato anche dentro al PD perché Calenda se ne va l'addio di Calenda nel Movimento 5 Stelle valori opposti il leader quindi Zingaretti li dice ripensaci per l'ex ministro il patto di governo è un tradimento me ne vado dice Calenda come avevo detto perché penso che questa alleanza con i 5 Stelle rappresenti un tradimento dei valori del partito democratico lo ha detto in due telefonate una al Nicola Zingaretti e l'altra al presidente del PD Gentiloni e poi Salvini Salvini cosa fa attacca il premier si teneva i dossier e li bloccava è l'accusa grave che fa Salvini a Conte colloquio con il leader Conte organico al PD dopo aver perso tutte le elezioni hanno preso tutti quindi cosa dice Salvini al Corriere da quando il nostro governo ha smesso di funzionare la risposta è da quando Conte ha avvocato tutto a Palazzo Chigi a Trentato ha centrato i dossier su di sé e tutto si è bloccato questo è l'attacco di Salvini appunto a Conte di cui chiaramente è stato ministro e anche vice premier ora ci spostiamo sulle pagine interne della Repubblica appunto l'accordo abbiamo visto 5 Stelle PD via libera Conte bis Grillo ministri non politici vediamo un commento a firma di concetto vecchio editorialista della Repubblica nasce il governo PD 5 Stelle due partiti che fino a ieri si sono odiati la crisi più incredibile della storia repubblicana aperta l'8 agosto da Matteo Salvini convinto di andare rapidamente al voto per prendersi il paese finisce in un modo che solo poche settimane fa sarebbe stato considerato fantascienza scrive la Repubblica e poi appunto un ritratto di Francesco Merlo su Conte il quasi premier che ha castigato gli spacconi scrive Francesco Merlo fu incaricato nel 2018 doveva essere il vice dei due vice Di Maio e Salvini invece ora guiderà un governo di sinistra dopo averne guidato uno di destra scrive Salvini e poi ancora scrive Merlo scusate e poi ancora Calenda in lutto intervistato sulla Repubblica lascia il partito ne fonderò un altro scrive Calenda che vediamo appunto qui nel momento in cui nel 6 marzo del 2018 aveva preso la tessera del PD e adesso ci spostiamo sulla stampa che appunto ha intervistato il filosofo Massimo Cacciari il patto PD 5 Stelle rischia di giovare a Salvini dice Cacciari per battere il populismo servono idee nuove vediamo appunto la foto di Massimo Cacciari sempre sulla stampa ora ci spostiamo all'estero Johnson l'abbiamo visto su tutte le prime pagine sospende il Parlamento il Premier chiude Westminster per 5 settimane oltraggio costituzionale vuole brindare la Brexit estremamente critici sia il leader dell'opposizione Corbyn sia lo speaker della Camera appunto ora sta maturando tutta una una fronda molto 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 importante contro questa decisione di Johnson che però sarà ratificata comunque dalla regina d'Inghilterra dalla regina Elisabetta un vero e proprio golpe qualcuno parla di un vero e proprio golpe e poi lo vediamo Greta sbarca a New York parte il giro delle Americhe la sedicenne svedese arrivata attraccata a New York attacca Trump si rifiuta di ascoltare la scienza vediamo qui la bellissima foto di Greta che a bordo della sua barca vera Malizia arriva a New York e poi l'accoglienza che gli è stata riservata e poi invece per quanto riguarda lo spettacolo Natalia Aspesi l'abbiamo visto in prima pagina sulla Repubblica che festeggia i 70 anni di Richard Gere il divo che non voleva essere solo sexy l'ex American Gigolo festeggia il compleanno con la sua terza giovane moglie da cui appena avuto un bambino il ragazzo palestrato c'è del passo a un signore che lotta per il Tibet e i migranti e poi sulla stampa la mostra del cinema di Venezia che ha preso il via ieri scoppia il caso Ponaschi la presidente Martel non lo applaudirò Barbera sono un critico non un giudice appunto ieri al via la mostra con le polemiche sulle quote rose sul regista di già chiuse vediamo poi la foto dell'arrivo ieri al Lido di Brad Pitt bene per la nostra rassegna è tutto noi ci vediamo tra pochissimo alle 7.30 con la prima edizione del nostro telegiornale a tra poco a tra poco a tra poco la prima edizione di tutto la prima edizione Grazie.